Lions Club della zona A della nona circoscrizione del distretto 108L, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Perugia, ha organizzato un convegno dedicato al tema del ciberbullismo, dell'odio online in genere, accompagnato da un'indagine sull'utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle nuove generazioni. Relatori, il professor Giovanni Ziccardi, docente di informatica giuridica presso l'Università degli Studi di Milano, uno dei maggiori esperti sui temi trattati. Marco Marcellini, consulente esperto di Ciber Security, l'avvocato Francesco Gatti, coordinatore della Commissione Formazione presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia e l'avvocato Raffaello Agea del Foro di Perugia. Ampia la discussione in sala sul ciberbullismo e su come si è cambiato negli ultimi anni con il dilagare dei social che non lo rendono più fatto circoscritto ma ampiamente condiviso. La grande novità secondo me è che si è capito che il ciberbullismo è diventato un fenomeno incarninato nella nostra società e dove tutti gli attori devono coordinarsi per poter reagire a un fenomeno così complesso. È un fenomeno che ha manifestato tre aspetti soprattutto che sono l'amplificazione del danno, cioè mai il ciberbullismo era stato così visibile e così violento nei suoi comportamenti, la persistenza dell'informazione, quindi mai gli atti di ciberbullismo erano stati così persistenti, durano 24 ore su 24, le espressioni diffamatorie non vengono rimosse. E mai era stato infine il terzo aspetto così social il ciberbullismo, cioè mentre prima era uno contro uno o un piccolo gruppetto contro un ragazzo, tre o quattro ad esempio, adesso invece raccoglie un esercito di follower, di profili, di persone che anche assistono. Questi tre elementi, l'amplificazione del danno, la persistenza e la socializzazione, sono quelli che la legge cerca di contenere un po' perché diciamo sono quelli che hanno cambiato il ciberbullismo rispetto all'idea di bullismo e di odio tradizionale. Io mi auguro che da questa serata possa venire fuori una cosa importantissima, e cioè che internet non è il male, il progresso non può essere il male, internet come tutte le cose del progresso va governato, quindi iniziative di questo tipo servono e devono servire a poter governare i processi di cambiamento senza che possano far male alla nostra società, né ai giovani né a tutte le persone che ne vengano interessate.